maglietta fox volpe racing una 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 volpe che corre che corre marco ci illustra questi bellissimi prodotti allora fox appena arrivata la maglietta della fox con il cappello sopra andiamo velocemente specializzata in sport estremi questa è la foto della della sua ragazza di marco ecco qui la fox è specializzata specializzata downhill e supercross ok per i comuni mortali cioè quelli ignoranti tutti i sport estremi anche ecco da surf quindi al mio amico un mio amico che fa surf maniaco di surf questi sicuramente interesseranno ma questi sono maschili sul verde quindi abbiamo dei cappelli anche della fox sono molto belli night rider night rider ecco nell'altro come faccio un ridore nella notte bello tutti con api bottiglia a vinconti nino per la paraffina carino e chiave esagonale per le pennette perfetto perfetto la paraffina cosa serve marco per far scivolare la tavola per far scivolare benissimo e poi anche abbiamo qui ci sono tutti gli altri consumi anche questo qui no questo qui è sempre della fox si no 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 ma questo è un altro perché lo trattiamo in un altro in un altro momento quindi chiudiamo questo video dedicato un modello di bello 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 veramente 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 bello in elastene il astene veramente bello tutti ma segni sembrano le tatuaggi in bianco e nero molto elastico veramente facciamolo vedere in tutta la sua bellezza perché merita ecco qua fox tutti i datuaggi i più importanti e va carpa coi a madonna si un bianco e nero si è sfumato veramente interno stupendi interno invece è un po' più colorato fantastico benissimo grazie a marco e al ciao ragazzi street mentality